Oggi il Martin Luther King ospita un'importante iniziativa. Sono contento che finalmente dopo anni siamo riusciti a realizzare questa bella iniziativa per portare a tutto il territorio di Favare, in particolare la nostra scuola, i ragazzi che nel futuro avranno contatto con persone che sono non vedenti e conoscono questa importante struttura con queste metodologie di fluo didattiche che permettono ai non vedenti di poter inserirsi sia nel mondo della cultura che nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto la possibilità di unirci qua con i ragazzi e spiegare un pochettino l'importanza del braille per i non vedenti, nonostante nel 2011 l'informatica sia importante anche questa per la vita dei non vedenti, ma il braille resta sempre una pietra miliare per l'accesso alla cultura, all'informazione per tutti i non vedenti. Abbiamo voluto celebrare questa manifestazione per fare cultura, per dire ai ragazzi che anche i non vedenti grazie a Luigi Braille che ha ideato la scrittura, i non vedenti possono andare a scuola, studiare col suo metodo e inserirsi nel contesto della società ed essere uomini tra uomini. Io termino questo mio discorso dicendo che sì, la cecità è un fatto grave, però la cecità peggiore è quella spirituale che molte persone hanno. Abbiamo la fortuna di avere questo centro che è interprovinciale, significa che noi seguiamo quattro province, aggrigendo tra Trapani, Palermo e Caltanissetta, quindi un centro fornitissimo di tutto il materiale ad uso delle persone con disabilità visiva. chiunque può venire presso il nostro centro e prenderne visione presso i nostri uffici che sono in via Imera numero 280 ad Agrigento. Un messaggio straordinario di forza, di coraggio da parte di chi è sfortunato perché ha qualche organo in meno, però riesce a trovare dentro nella forza, nell'animo, nell'entusiasmo tutte quelle caratteristiche che lo fanno diventare più forte, più capace, più abile di noi che ci diciamo normali e abili. Grazie a tutti!